Sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno Abbiamo organizzato questa iniziativa insieme all'Associazione della Soluzione per i centri di Correale che è un'iniziativa che è sicuramente condivisa da parte dell'Amministra del Sole Comunale ma anche un po' di tutta la città è una ricorrenza unica nello suo genere per la prima volta abbiamo organizzato questa sagra che ricorda e valorizza una delle nostre eccellenze che è il pane tipico di Correale Noi ci muoviamo in questa direzione perché promuovere le nostre eccellenze dimostra come la città di Morale non è la città del duro ma è la città di tante altre cose ed è per questo che proprio noi la vogliamo valorizzare e promuovere in tutto il mondo Sciuri, 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 sciuritti tutto l'anno L'amore è camera, spettino torno Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno L'amore è camera, spettino torno La, 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 la Amarago di picchia di moglieri, scioli 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 di tutto l'anno, l'amore camerastica di l'ottorno, scioli 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 di tutto l'anno, l'amore camerastica di l'ottorno. L'inizio dell'attività, della lavorazione comincia intorno alle 4, con l'accensione del forno che deve mantenere delle temperature durate per tutta la giornata, l'impasto tramite l'impastatrice elettrica di farina e acqua e l'aggiunta del lievito preparato in precedenza. Dopodiché l'impasto viene lasciato riposare su delle tavole di legno dopo avergli dato una forma che è differente da quella rotonda, i filoni, i quartini, dopo essere stato pesato viene appunto viene data la forma e viene posata in queste tavole dove riposa per almeno 7-8 ore, dopodiché è pronto per essere infornato. Nel frattempo il forno è stato preparato come? Attraverso il riscaldamento tramite fascine di urlivo accese, successivamente quando la legna è diventata cenere viene pulito, che in siciliano il termine tecnico è accannato, quindi viene tolta tutta la cenere che viene raccolta vicino alla bocca del forno, nella strada di sottostante. Dopodiché appunto il forno è pronto per accogliere il pane che ha bisogno di almeno 20 minuti per la cottura. Puglava e peggia ci portai i dinari, Puglava e frutta ci mori i lucori. Giuri, 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 giuri tutto l'anno, l'amor e camera stiti lo torno. La 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 l'agenda lutoni, amara godi, picchia, di moghieri, giuri, giuri, giuritti tutto l'anno, l'amor camera spettino tonno, giuri, giuri, giuritti tutto l'anno, l'amor camera spettino tonno, la, 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 la.